ora andiamo disegnare il secondo esagono quello più grande con diagonale da 22 mm avviamo librecad trassino il centro degli assi al centro dello schermo e vado a disegnare una linea verticale da 22 mm con la gancia alla griglia vado a copiare il mio segmento lo copio per due volte ruotandolo di 60 gradi traccio i lati dell'esagono collegando gli estremi delle diagonali al termine cancello le linee che non mi servono selezionandole e usando il tasto canc e poi vado a salvare il mio file con il nome esagono 2 lo salvo in formato DXF2000 al termine cancello iki 100 gram BOY al termine чismo Grazie a tutti.